Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video oggi ho deciso di farvi vedere la lavanderia finalmente ci siamo decisi a sistemarla avevamo altri lavori da fare prima qui in casa però adesso è arrivato decisamente il momento di sistemare anche la lavanderia proprio perché ancora non abbiamo nemmeno la lavatrice quindi ci serve decisamente e a tal proposito ho deciso di andare a sistemarla perché adesso è abbastanza classica non è proprio nel mio stile quindi abbiamo deciso con il grandissimo aiuto di mio papà di andare a rimodernizzarla e rendere un po' più nel nostro stile appunto ci sono un po' di lavori da fare quindi in realtà questo video lo vedrete molto più in là dalla registrazione che sto facendo oggi perché oggi è il 7 maggio se non ricordo male, 7-8 maggio comunque siamo a inizio maggio e probabilmente questo video credo uscirà almeno a giugno perché insomma i lavori che voglio fare sono diversi tutti fai da te, quindi tutti fatti da noi in casa senza chiedere l'aiuto di nessuno e sono davvero curiosa di vedere come si trasformerà quindi adesso vi faccio vedere la lavanderia come attualmente e come si trasformerà ovviamente vi farò vedere anche i vari lavori che andremo a fare nel corso del tempo tralasciate il fatto che è disordinata perché essendo una stanza che attualmente non stiamo utilizzando è un po' messa così in disordine proprio perché non ci sto attento non vado mai a sistemarla quindi è in disordine praticamente da quando siamo entrati la lavanderia si trova giù in garage quindi adesso vediamo com'è il prima e poi sono curiosissima di vedere il dopo e come siamo riusciti a trasformarla da soli ok ci siamo la lavanderia si trova dietro questa porta e attualmente è così ripeto non guardate il casino che c'è devo dire che in realtà è molto grande abbastanza spaziosa qui abbiamo la vasca in marmo che questa resterà così poi qui andranno lavatrice e asciugatrice qui c'è questo pavimento in pvc che ci ha avanzato dalla palestra che abbiamo provato a posizionare per vedere come stava con i colori ma alla fine abbiamo deciso di scegliere di fare un pavimento un pochettino più scuro un po' più caldo e quindi questo abbiamo provato però in realtà non sarà questo il pavimento che andremo a sovrapporre a questo che vedete perché abbiamo deciso di proprio di rivoluzionarla quindi andremo a coprire tutto il pavimento che adesso è molto classico con un pavimento in pvc effetto legno che ancora dobbiamo acquistare però praticamente l'abbiamo già scelto poi intorno a tutta la lavanderia come potete vedere ci sono queste piastrelle che non mi piacciono cioè non mi piace il colore e anche queste sono abbastanza classiche e quindi abbiamo deciso di andare a pitturare le piastrelle abbiamo già preso la vernice ovviamente specifica per piastrelle e abbiamo scelto di farle bianche alla fine inizialmente eravamo partiti su un grigio chiaro o un colore nocciola molto molto chiaro però abbiamo paura di andare poi a creare uno stacco comunque un colore simile ma non uguale al pavimento e quindi per staccare totalmente per rendere le piastrelle con il pavimento il più omogene possibile abbiamo optato per il bianco che è sicuramente il colore che si abbina con tutto e con quello sappiamo di non sbagliare quindi piastrelle bianche che verranno pitturate tutte pavimento in effetto legno più luci inizialmente avevamo guardato il pavimento laminato ma ci è stato sconsigliato in quanto si tratta di una stanza con un po' di umidità e in più ci sarà appunto la lavatrice l'asciugatrice, c'è la caldaia quindi il rischio d'acqua c'è allora ci hanno consigliato un pavimento in PVC che è super resistente all'acqua anche questo lavoro lo farà mio papà e noi gli daremo una mano e poi andrò ovviamente a acquistare lavatrice e asciugatrice che metterò qui dove sono adesso e poi ho un sacco di idee proprio per andare a personalizzarla voglio prendere dei posti proprio a tema lavanderia poi mi piacerebbe creare sopra la lavatrice e l'asciugatrice un piano in effetto legno dove posizionare magari i detersivi o comunque delle ceste dove mettere all'interno tutti i detersivi tutte le varie cose poi qui sotto c'è la finestra e andrò sicuramente a mettere una tenda e qui avevano, quando hanno fatto i lavori avevano pensato di far mettere il termoconvettore ovvero per scaldare la stanza però alla fine noi abbiamo deciso di non metterlo perché non credo che possa servire più di tanto scaldare questa stanza quindi dovremo andare a coprire questi questi buchi che ormai purtroppo devono restare quindi io pensavo di realizzare un mobiletto non troppo profondo comunque da mettere sotto la finestra e magari sotto andare ad inserire le ceste dove mettere i panni sporchi da lavare e poi qui nell'angolo c'è la caldaia appunto come vi dicevo è tutta smontata quindi anche qua c'è da sistemarla e poi c'è questo stendino che è un po' ingombrante devo dire e mi sa che alla fine lo scarterò e nulla questa è attualmente la lavanderia non vedo l'ora di stravolgerla e di renderla in linea col mio stile e quindi noi ci vediamo subito dopo con i lavori in realtà per me passeranno sicuramente diversi giorni quindi ci rivediamo a lavori iniziati a presto con i lavori iniziati con i lavori iniziati è passato un po' di tempo delle ultime clip che avete visto perché come avete notato alla fine non sono riuscita o meglio ho cancellato i file che ho registrato quando stavamo pitturando per bene tutta la lavanderia mi sono sbagliato ho cancellato tutto quindi si vede soltanto la clip dove facciamo una piccola prova perché un mesetto e mezzo fa circa abbiamo provato la pittura soltanto in un punto quello che poi sarà coperto dalla lavatrice per vedere se usciva bene perché se usciva bene ovviamente facevamo tutto il resto come poi è stato fatto se invece usciva una cosa non proprio perfetta lasciavamo perdere e le lasciavamo così invece il risultato ci piace molto abbiamo già dato due mani come potete vedere e oggi diamo una terza mano perché in alcuni punti c'è bisogno di farlo perché non sono proprio perfetti e vi faccio vedere qui vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa sì notate che in alcuni punti non è proprio perfetto cioè si vede e quindi dobbiamo darci un'altra mano questo è l'ultimo punto che abbiamo fatto ieri e qui dove inizia la calda ci siamo interrotti perché facciamo fatica ad andare a pitturare dietro quindi qui resterà così qui sotto la finestra e anche qua è da dare una seconda una terrazza mano o forse una seconda addirittura perché c'è finita la pittura sì una seconda mano qui mentre questa è la zona dove ci sarà appunto la lavatrice o l'asciugatrice qui abbiamo già dato due mani belle belle piene come notate è uscito decisamente meglio guardate un po' e mi piace un sacco come è uscito la trovo innanzitutto molto più grande rispetto a prima cioè sembra davvero più grande avendo fatto tutte le pareti praticamente bianche perché anche il muro l'abbiamo pitturato l'estate scorsa è di bianco era già bianco però gli abbiamo dato ovviamente una rinfrescata quindi oggi ci dedichiamo a completare per bene le piastrelle mentre nelle settimane successive ora non so di preciso quando andremo a ricoprire il pavimento con quello che abbiamo preso in PVC che non vedo l'ora di vedere posato perché è davvero bello e sono curiosissima l'abbiamo l'abbiamo Grazie a tutti. Buon pomeriggio, sono passati un sacco di giorni dagli ultimi clip che avete visto, però stiamo andando avanti molto bene, infatti mio papà sta continuando il lavoro dei pavimenti, adesso vi faccio vedere. Questo è il risultato attualmente, quindi siamo partiti da là e manca questo pezzettino, avevamo avuto anche un problema con la porta in quanto non si chiudeva perché il pavimento andava a toccare contro la porta, invece abbiamo sistemato anche questo problema, quindi ci siamo quasi. Io non vedo l'ora di vederlo completato, poi ho preso il mobiletto da Ikea che andiamo a posizionare qui, l'abbiamo già montato, dopo vi faccio vedere come sta. Ciao! Musica E adesso vi faccio vedere il risultato finale. Eccolo qua, questa è la lavanderia sistemata o meglio ristrutturata per quanto riguarda le piastrelle e il pavimento. Abbiamo messo il mobile che ho preso da Ikea qualche settimana fa, l'abbiamo montato e l'abbiamo messo qui e adesso l'avessi un attimo spostato perché ci ho preso dentro. Però questo è il risultato, ho messo qualche contenitore però devo acquistarne altri perché questi mi sembrano un po' piccolini ma per quanto riguarda il video dell'organizzazione sicuramente ne registrerò uno dedicato. Però ci tenevo a farvi vedere il risultato finale, il pavimento è bellissimo, ci piace un sacco sia come colore che proprio anche come effetto perché sembra praticamente legno vero, guardate quanto è bello. Mio papà ha fatto un ottimo lavoro, è stato davvero super bravo e con poco abbiamo praticamente ristrutturato questa lavanderia. Vi metto l'immagine di come era prima e l'immagine di come è adesso o comunque vedete adesso com'è così da poter vedere la differenza. E niente ragazze, spero che questo video vi sia stato di compagnia ma soprattutto di ispirazione. Se è stato così mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale, io vi mando un mega bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!